Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e sono qui a portarvi un nuovo Squad Builder, come promesso vi ho portato la squadra con Manet Team of the Season che ho trovato in un pack e poi nel prossimo Squad Builder vi porterò una squadra, una ibrida, comprendente Wolko Tiff, Attaccante e Sanchez Team of the Season. Comunque, parliamo di questa squadra di oggi, è una squadra veramente molto competitiva, molto forte, che mi è piaciuta tantissimo utilizzare. Ho usato questo modulo perché forse era il migliore per fare la ibrida che intendevo fare e comunque mi trovo abbastanza bene. Partiamo subito con il portiere, cioè, 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 altra pagina, non è leno, bensì Ter Stegen del Barcellona. Ho usato lui per fare un collegamento, però io mi sono sempre trovato bene con Ter Stegen, è un buon portiere con ottimi riflessi, quindi fa delle bellissime imparate, delle volte fa delle cagate, tipo uno contro uno davanti all'avversario prende gol di tunnel, però, vabbè, questo può capitare. Comunque Ter Stegen ve lo consiglio perché è davvero un buon portiere. Poi, terzino destro, ho utilizzato in realtà un argento che ho utilizzato anche nello scorso Squad Builder, cioè, eccolo qui, Dick Mayer, perché secondo me è il miglior terzino destro che si può trovare in Bundesliga e che comunque mi serviva per fare, vabbè, intesa, anzi no, forse non mi serviva, no, sì, sì, mi dovrebbe servire per l'intesa, però vabbè. Dick Mayer, presentato nello scorso video, ma comunque l'ho usato altre volte, è veloce, è forte in difesa, mi ha fatto anche un gol e 4 assist in tutte le partite che l'ho utilizzato. Poi, difensore centrale, non può mancare Boateng, perché è veramente incredibile questo giocatore, è fortissimo, veloce, in difesa non lo salti quasi mai, è alto, ha un ottimo fisico e un discreto passaggio, davvero un buon giocatore che costa relativamente poco. Poi, mentre come difensore centrale di sinistra ho usato Varane, anch'esso ho trattato tantissime volte quest'anno, come voi avrete visto, molto forte, ha belle statistiche, altissimo, quindi ci sta di brutto. Mentre il terzino di sinistra per completare la difesa è Marcello, che è forte, perché mi piace, oltre ad essere buono in difesa, è anche abbastanza veloce, è forte nel dribbling, quindi offensivamente veramente forte, ha un discreto tiro, un ottimo passaggio, quindi penso che sia uno dei migliori terzini sinistri che abbia provato quest'anno. Poi, passiamo al centrocampo, troviamo come CDC un giocatore che non mi aspettavo di utilizzare, però ho dovuto utilizzarlo per l'intesa, cioè Berami, ma devo dire che non è male questo giocatore, è un giocatore completissimo, tranne per il tiro, però non è il peggiore del mondo, ha un discreto passaggio, quindi va anche abbastanza bene per essere un CDC, ha una discreta velocità e comunque da schermo, diciamo, davanti alla difesa, fa sempre il suo lavoro per via delle sue buone statistiche, ottimo workout, è alto, quindi devo dire che per 400 crediti ne vale la pena. Poi, CDC di sinistro, ho utilizzato un altro giocatore non raro, un altro giocatore tipo, che è Schneiderlin, mi piace, anche se non è velocissimo, mi ha fatto però due gol, due long shot, anche se ha 63 di tiro, mi ha fatto due long shot veramente stupendi, dopo li vedrete, penso, nelle clip, e quindi merita tantissimo. È un ottimo giocatore, peccato che ha una velocità un po' bassina, però mi è piaciuto davvero tanto questo giocatore, si spinge anche molto spesso in attacco. Mentre come CC, dietro, diciamo, l'attaccante, ho utilizzato Pogba, che, se devo essere sincero, preferisco Pogba 84, lo preferisco come COC, perché, secondo me, ha delle statistiche migliori, ed è molto, secondo me, molto più efficace utilizzarlo come seconda punto, come trequartista. Però, comunque, sì, anche come CC non è assolutamente male, mi ha fatto tanti gol, mi ha fatto tanti assist, costa tanto, però, cioè, adesso non so in realtà quanto costa, perché il prezzo è molto vecchio, però è veramente molto buono. Poi, AD, ho utilizzato, ho utilizzato, ho utilizzato, ho utilizzato Shaqiri, non del Bayer, scherzavo, quella della versione dell'Inter. Ho utilizzato Shaqiri, mi aspettavo molto di più da Shaqiri, perché ha delle statistiche veramente molto belle, mi aspettavo qualcosa di più, però non è un giocatore scarso, è davvero un buon giocatore, mi ha fatto comunque tre gol in cinque partite, più un assist, che comunque va bene come ala, direi che è una buona media, 4-6 di età, 4-6 di piedi debole, veloce, ottimo dribbling, quindi agile, buon tiro, eccetera, eccetera, quindi ci sta, davvero un buon giocatore. Poi, come ala di sinistra, vabbè, come sapete, Mané, la stella della squadra, che è veramente forte, certo, secondo me, io sono dell'idea che quando voi avete un giocatore argento che vi passa a oro con varie versioni IF, secondo me lo pompano un po' nelle statistiche, ma in realtà non sono quello che sono le statistiche. Invece Mané, devo dire che, a parte magari la finalizzazione, che in alcuni casi non mi sembrava 85, perché lui dovrebbe avere 85 di finalizzazione, che di per sé per un 77 è altissimo, e il resto delle statistiche mi sono sembrate giuste. È veloce, ha un ottimo dribbling, ha un discreto tiro, non il massimo, però comunque ci sta, lui è più uno skillomane, un più un driblomane, che un tiratore, però mi ha fatto i suoi 5 gol in 5 partite, più 2 assist me li ha garantiti, quindi davvero è un giocatore che vale la pena di provare. E poi, per completare la squadra, con l'attaccante, ho utilizzato Tevez, che non poteva mancare, davvero un grande attaccante, che fa almeno un gol a partita, come potete vedere, 10 gol in 10 partite, più 5 assist, quindi è anche un giocatore che vi fornisce assist, è davvero un peccato che questo giocatore abbia 3 stelle piede debole, e 3 stelle abilità, se avesse 4-4, o anche solo 3-4, sarebbe veramente incredibile e fortissimo. Comunque raga, questa è la squadra, spero vi sia piaciuta, come sempre vi invito a lasciare un bel like, la prossima squadra, appunto, come vi dicevo, sarà incentrata su Wocot e Casorla, e sì, Casorla, e come si chiama, Sanchez, mi è stato detto, fai una squadra con Casorla, e sì, ancora questo Casorla, con Sanchez, Wocot e Mané, purtroppo non ho, i tre giocatori non sono nello stesso account, qui ho Mané e gli altri due ce li ho in un altro account, quindi non è possibile, però comunque sì, vedrete che verrà fuori una bella squadra, anche successivamente. Vi invito a scrivermi nei commenti che squadre vorrete in futuro, anche le nazionali per riprendere un po', e iscrivetevi al mio canale, pagina Facebook, Twitter, Instagram, tutti i link li trovate come sempre in descrizione, noi ci vediamo al prossimo video, bella raga! E più A presto! A presto! Grazie per la visione